Ci troviamo a Dabud, un villaggio famoso, abbastanza conosciuto qui in Palestina, perché era uno dei villaggi originariamente quasi totalmente cristiani. Adesso la popolazione è mista. Come vediamo scritto su questo cartellone, c'è un'importante struttura della Caritas di Gerusalemme. In arabo ci sono scritte le specialità. È una struttura di poliambulatori medici. Noi siamo qui sul far della sera per visitare brevemente uno studio dentistico collegato a un'associazione di volontari italiani. Ci accostiamo adesso alla struttura e visitiamola brevemente. Qui alle mie spalle potete vedere, mentre ci avviciniamo alla struttura, la campagna di Dabud, che è tutta ad olivi, coltivati più o meno modernamente, ma tutti destinati alla produzione di olio, caratteristico di questi luoghi. L'intera struttura appare singolarmente bella e ben tenuta e fa specie in un luogo come questo. Eccoci all'ingresso del centro medico, dove siamo attesi per questa visita allo studio dentistico. Entriamo dunque nel centro medico e troviamo qui sulla mia destra subito il pronto soccorso o l'emergenza, come qui la chiamano. Qui accanto c'è il laboratorio delle analisi, ben tenuto, tutto ben pulito. Qui abbiamo lo studio per il primo incontro con il paziente, per la descrizione della malattia, per i dati da dare, per il peso, per la pressione, per queste cose generiche. Qui accanto invece abbiamo la sala di farmacia con negli scaffali le medicine in uso dispensate da questo centro medico. Qui nel corridoio ci sono i vari studi medici con gli specialisti per gli incontri particolari. Vedo qui in arabo, hanno detto che è ginecologia. E arriviamo alla fine del corridoio dove c'è il nostro studio dentistico, che è il motivo per cui siamo venuti qui questa sera. Entriamo nello studio dentistico e incontriamo subito qui, seduto alla scrivania, il dottor Andal, che conosciamo perché è di Betremme, è anche il nostro dentista, per così dire, qui di tanti religiosi a Betremme. Però siamo venuti qui a Dabud per sentire cosa fate qui in questo studio. Qua noi facciamo il trattamento dei bambini, che è la gente che vengono qua, la gente vicina, il villaggio vicino, cristiani e musulmani. Noi facciamo qua quasi tutto. Noi facciamo dell'ottrazione, del dente normale, colore grigio, anche bianco. Facciamo qua, noi usiamo delle luce per fare il composito un po' forte. Anche facciamo qua gli impianti, gli interventi, gli ottavi inclusi. E quasi noi facciamo qua tutto. Qua, la gente qua, la cultura anche qua. E la gente non lavano bene i denti, non fanno niente. Quindi qua, noi vogliamo che la gente che vivono qua sanno bene l'importanza del dente. Perché qua la cultura pensa che quando loro hanno un male, tolgono il dente qua. Però noi vogliamo che loro sanno che noi possiamo fare il trattamento senza fare l'estrazione del dente. Quando noi lavoriamo, che la gente hanno soldi, che pagano, e noi prendiamo questi soldi per aiutare che la gente non hanno soldi, poveri. Vedo che lo studio è ben attrezzato. Di cosa disponete? Qua, la nostra poltrona, che fanno in Italia, si chiama Sirona. Una buonissima poltrona, veramente. Questa qua, che è quella turbina, micromotore, che è tutto, già pronta. Se qua, abbiamo qua, di macchinetta si chiama Autoclave, per fare l'estralazione degli strumenti. Anche qua, questa macchina si chiama Amalgama, per fare il pasta per l'ottrazione. Qua, questi, anche per fare le impronte, per fare tutto il lavoro che noi vogliamo fare qua, a nostra studio. Questa attività con la Caritas, all'interno della struttura della Caritas, è diretta da questa associazione che ha il suo centro a Fiugi in Italia. Il presidente, come lei diceva, è Mauro Giacomi. Ecco, questo è di ispirazione cristiana, lei accennava, e quindi ha questa ispirazione. E c'è questo sostegno, non solo, in questo caso, di beni che vengono dall'Italia, attraverso questa associazione, che provvedono alle necessità più importanti dello studio. Ma c'è, come dicevi, questa presenza anche fisica, anche personale, di questi dentisti che a turno vengono per dare un'occhiata, per aiutare, ma per tenere anche voi, che avete imparato da poco, e a volte anche con l'aiuto della stessa associazione, a esercitare un servizio alla popolazione che sia all'altezza. Ho conosciuto Mauro Giacomi, perché io ho fatto il master in Italia, e quindi Mauro Giacomi, lui ha fatto un primo progetto a Betlemme, e dopo lui ha cominciato a pensare per andare per altri villaggi qua in Palestina. Ma da questo luogo, che è un piccolo luogo disperso nella Palestina, tu puoi fare un appello a altri dentisti che vogliano impegnarsi non solo nella propria professione, nel proprio studio, ma anche di dare una mano a persone, ad ambienti, a situazioni sociali diverse e magari anche lontane, che è sempre però anche un arricchimento per chi porta questo soccorso. Io ho ricevuto tanta assistenza della associazione, ora sono membro di questo, ho partecipato alle sue attività. ma invito tanti altri dentisti che non pensavano al proprio studio, ma allargarsi, che è bene più universale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.